e quindi dopo il successo dei video riguardo il match at betting continuiamo con la seconda parte vi lascio qua ragazzi la prima parte se qualcuno di voi ancora non l'ha vista dovete assolutamente guardarla perché è fondamentale per il continuo di questo video continuiamo quindi con ninja bette e oggi andremo a vedere gli altri bonus quelli là un po' più consistenti andando a vedere ovviamente come andare a prenderli completamente se questo video ragazzi anche otterrà tantissimi commenti e tantissimi like io continuo sempre di più portando fino all'ultimo bonus e portando anche tutti gli strumenti disponibili su ninja bette vi assicuro che sono tantissimi e vi assicuro che i metodi di guadagno sono molto molto interessanti e possono fruttare delle entrate ricorrenti ogni mese nello scorso video nella prima parte abbiamo visto come guadagnare subito matematicamente 9 euro oggi invece andremo a vedere come guadagnare molto ma molto di più sempre matematicamente quindi se non avete visto la prima parte il motivo per cui dovete vederlo ragazzi è perché lì è spiegato il metodo molto semplice che sarà più o meno sempre lo stesso anche se oggi andremo ad approfondire qualcosa in più quindi la prima cosa da fare è passare all'abbonamento premium per avere accesso a tutti i bonus e tutti gli strumenti di cui avremo bisogno io l'ho già fatto vi farò vedere come fare l'abbonamento vi ricordo che costa 19,90 al mese se fate un pagamento mensile altrimenti se fate annuale ragazzi risparmierete un sacco di soldi pagando in unica soluzione questo abbonamento è indispensabile perché dopo i primi 9 euro ragazzi ovviamente non ci dà accesso agli altri bonus ma noi abbiamo bisogno di andare a prendere bonus molto ma molto più consistenti per avere delle entrate molto molto più grosse ciao amico quindi e benvenuto in questo nuovo video se non mi conoscivo sono Salvatore prima di iniziare come sempre però like al video commenta e fammi sapere se vuoi che continuo questa serie iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e ti ricordo che in descrizione troverai il mio referral link a NinjaBet per supportarmi iscriviti se ancora non l'hai fatto e adesso iniziamo siamo adesso sul sito di NinjaBet dopo aver seguito la nostra prima parte abbiamo bisogno ovviamente di andare ad acquistare il premium quindi andiamo su acquista andiamo a scegliere ovviamente il nostro abbonamento in questo caso io ho fatto il mensile 19,98 al mese dopo aver cliccato su acquista vi usciranno tutti i vostri dati da inserire e il pagamento o con carta o con paypal una volta andato a buon fine vi uscirà questa schermata e saremo pronti per iniziare adesso andiamo alla sezione premium che è quella che ci interessa che ancora non abbiamo visto andiamo a cliccare su visualizza qui ragazzi ci saranno spiegate un po' di cose la prima consiglia di creare un'email dedicata direttamente al match at betting dove riceverete appunto tutte le mail dedicate per i vari bonus tutte le cose importanti per non perdere tra tutte le altre mail quindi consiglia di creare una mail dedicata ovviamente se volete farlo altrimenti utilizzate la vostra mail cercate di fare un po' attenzione a tutte le mail che vi arrivano consiglia poi di inserire l'autenticazione a due fattori su BetPair e poi ci introduce a quella che sarà la schermata del cosiddetto Profit Tracker che adesso vi faccio vedere che è sostanzialmente dove andremo a inserire tutte le nostre scommesse e terremo traccia ovviamente dei profitti che stiamo facendo uno strumento molto interessante che fa parte del premium piccoli consigli prima di vedere come funziona il Profit Tracker che ci dà NinjaBet andare a creare un promemoria quindi utilizzando un qualsiasi calendario o un'applicazione per creare un promemoria relativi ovviamente alle varie offerte e le scommesse da dover fare per essere più efficienti poi ci consiglia di andare a visitare il forum di NinjaBet per qualsiasi dubbio o domanda ci consiglia di entrare nel canale Telegram e attivare ovviamente le notifiche per non perdere le cose più importanti e infine ragazzi ci dice che se dovessimo magari riscontare qualche problema con i bookmaker quindi magari non ricevere un bonus o qualche problema con la scommessa che può succedere ovviamente di andare a contattare direttamente la chat del bookmaker ovviamente sul quale avete avuto il problema poi se su Betfair hai ricevuto un bonus cosa che non abbiamo visto nell'altro video nella prima parte cosa molto probabile perché anche Betfair ha un bonus di andare a seguire queste istruzioni per prendere ovviamente il bonus e noi andiamo a vedere una volta che Betfair ci avrà assegnato il bonus ovviamente non potremo andarlo a mettere sull'exchange di Betfair quindi utilizzando il punte banca ma avremo bisogno per forza di fare la puntata su Betfair e bancare su un altro sito in questo caso viene in nostro soccorso un exchange che si chiama Betflag che ci consiglia anche NinjaBet ovviamente nella guida andiamo a registrarci ovviamente a Betflag e in questo caso ragazzi useremo Betflag per fare la bancata se non sapete di che cosa sto parlando allora dovete assolutamente andare a vedere la prima parte di questa serie di video nel quale ho spiegato come funziona il punte banca ed è quello che dovremo fare per prendere il bonus di Betfair quindi andremo a puntare su Betfair utilizzando la sezione scommesse normale quindi sezione sport non sezione exchange dopo aver fatto poi la registrazione invece su Betflag andremo a utilizzare la sezione exchange di Betflag per bancare la nostra scommessa cosa importante il bonus di Betfair ragazzi va giocato a quota minima 1,50 andate a controllare ovviamente nei termini e condizioni se questa cosa è cambiata ma non dovrebbe essere cambiata quindi quello che dobbiamo fare adesso è trovare una partita utilizziamo il solito strumento che abbiamo visto l'altra volta in questo caso utilizzeremo il Dacher che va a matchare le partite tra Betfair in questo caso e il nostro Betflag quindi utilizziamo Betfair Sportsbook in questo caso la versione sport e il Bookmaker 2 andiamo a mettere Betflag Exchange perché noi avremo bisogno di puntare su Betfair e bancare ovviamente su Betflag in questo caso andrà a trovarci ecco qua la nostra partita che è Dain's Door Deck adesso prendo la prima a caso ricordate ragazzi quota importante 1,50 in questo caso vedete c'è l'1,50 sia per quanto riguarda il no goal sia per quanto riguarda il goal quindi effettivamente possiamo andare a puntare il nostro goal su scusate il nostro no goal su Betfair e il nostro goal su Betflag possiamo fare anche la stessa cosa anche se in questo caso la scommessa che ci consiglia per avere ovviamente un rendimento maggiore è mettere no goal su Betfair e goal su Betflag quindi magari cerchiamo una quota ad esempio un po' più bassa anche se il rating 97 è meglio utilizzare partite con rating 97 però ovviamente poi la quota sarà più alta del bonus di conseguenza avremo bisogno di bancare di più quindi è meglio giocare a quota molto molto più vicina all'1,50 il bonus in modo da dover bancare con meno soldi in questo caso però ragazzi io vi farò l'esempio con questa partita e andiamo subito a vedere adesso che abbiamo trovato la nostra partita sul quale andare a puntare andiamo ad aprirla sui due exchange io l'ho trovata sia su Betfair eccola qua e anche su Betflag in questo caso ragazzi non andremo a fare il punta e banca ma andremo a fare due punta quindi scommetteremo due esiti opposti come ci consiglia ovviamente il nostro Daccer perché ci ha trovato queste condizioni quindi ci consiglia di mettere il no goal su Betfair e il goal su Betflag quindi una delle due succederà in questo caso apriamo il nostro calcolatore andiamo a selezionare i nostri 10 euro di bonus in questo caso utilizzati su Betfair quota no goal 2,70 in questo caso andiamo a controllare se la quota no goal è 2,70 e lei andiamo quindi a vedere ho perso il calcolatore eccolo qua andiamo a vedere su Betflag exchange se la quota del goal in questo caso combacia a 1,59 eccola qua 1,59 e quindi andiamo a selezionare e vedere che cosa succede 1,59 le commissioni di Betflag e quello che succederà ragazzi è che pagheremo quei pochi centesimi ovviamente di payout come detto e 9,53 saranno il guadagno abbiamo bisogno in questo caso per la puntata 2 di 17 euro quindi messi 10 euro a quota 2,70 abbiamo bisogno di 17 euro a quota 1,59 da mettere poi ovviamente qua su Betflag quindi fate l'iscrizione puntate i 17 euro che dovete ovviamente depositare voi per coprire sostanzialmente questa scommessa il profitto sarà di 10,03 proprio come suggerisce qua l'applicazione e ovviamente una volta vinto se vinto su Betflag potrete prelevare se vinto su Betfair potete o prelevare o decidere di lasciarli per andare sostanzialmente a bancare poi altre scommesse che faremo su altri Bucamaker adesso vediamo brevemente come inserire le partite all'interno del Profit Tracker clicchiamo su aggiungi per mettere nuove partite tipologia di scommessa data e ora in cui stiamo aggiungendo la scommessa il Bucamaker sul quale andiamo a puntare quindi magari il bonus o la prima scommessa per sbloccare il bonus ad esempio nel primo video Bwin e poi l'exchange di copertura dove abbiamo bancato Betfair note se dobbiamo inserire delle note data dell'evento ad esempio mettiamo che è una partita di ieri l'evento su quale partita abbiamo scommessa e che scommessa abbiamo fatto in modo tale da avere tutti i dati a disposizione soldi reali che abbiamo inserito ad esempio abbiamo utilizzato 20 euro e c'erano 10 euro di bonus guadagno atteso vi faccio un esempio 9,53 euro che era quello di prima e salviamo la nostra partita ci uscirà vedete ragazzi qua la nostra scommessa andiamo ad aprire e andiamo a completare la scommessa perché abbiamo bisogno poi di registrare come andrà a finire quindi se risulterà vincente la puntata inserremo i dati della puntata vincente con i vari importi se invece risulterà vincente la bancata la stessa identica cosa quindi incasso puntata ad esempio di 10 euro incasso della della bancata in questo caso la puntata è stata vincente facciamo 20 euro di incasso sulla puntata e 10 euro di incasso sulla bancata con un guadagno di 10 euro in questo caso andiamo a completare il adesso non me la dà completa non so perché completa ok mi dice che ha messo data 22 ecco qua ragazzi completata in questo caso si dice il guadagno è stato 10 euro io ho messo dei dati a caso noi dovremo mettere poi i dati reali e ci dirà anche che attualmente stiamo guadagnando 12 euro adesso ragazzi tenetevi pronti per la prossima parte perché finalmente andremo a vedere i bonus più grandi ci tengo ad anticipare una piccola cosa innanzitutto lasciate like e commentate se volete che continui questa serie fatemi sapere appunto se avrà successo io continuo la serie e vi mostro come sbloccare i bonus molto a molto più grandi ci tengo però a precisare una cosa ragazzi iniziate a prepararvi perché per sbloccare i bonus più grandi ci vorrà un budget più grande ad esempio nel caso di leo vegas per sbloccare 200 euro avere un profitto da 60 a 120 euro ci vorranno dai 1200 a 1600 euro potrebbero non volerci poi lo capiremo meglio perché ma diciamo se dovesse tra virgolette andare male ci vorranno un po' più di soldi stessa identica cosa per gli altri bonus più grandi esempio di SNAI ci potrebbero volere fino a 3000 euro per sbloccare tutto il bonus potrebbero anche non volerci vi spiego subito perché quando si va a puntare il bonus ad esempio di 300 euro e si va a bancare su Betfair se la scommessa risulterà vincente su Betfair sarà tutto ok il profitto sarà molto più alto il bonus sarà stato perso e quindi tutto prelevabile sul nostro exchange ma se invece la puntata risulterà vincente ad esempio su SNAI su Leo Vega sul bookmaker nel quale andiamo a prendere il bonus vi ricordo che il bonus non è prelevabile subito necessita del cosiddetto rollover quindi di essere ripuntato nel caso di SNAI fino a 8 volte quindi un totale giocato di 2400 euro quindi finché non raggiungiamo 2400 euro di scommessa su SNAI il bonus non è prelevabile quindi avremo bisogno poi di ripuntare tutto quello che abbiamo vinto su SNAI e andare a bancare di nuovo su Betfair e quindi potrebbero volerci anche fino a 3000 euro per completare tutto il ciclo di scommesse quindi il budget ragazzi potrebbe servire così come non potrebbe servire meglio che ci sia altrimenti poi si rischia di non poter sbloccare il bonus e quindi poi di perdere soldi e questo noi non lo vogliamo assolutamente quindi nel caso quello che potete fare è cominciare con i bonus più piccoli che necessitano di meno budget potete vedere sempre su Ninja Bet di quanto budget avete bisogno in questo caso di circa 100 euro per sbloccare un bonus di 10 euro dal prossimo video quindi iniziamo poi i tutorial delle scommesse diciamo un po' più difficili dei bonus più difficili ma non vi preoccupate perché sarà sempre tutto facile fatemi sapere se c'è qualcosa che non avete capito qua sotto nei commenti like al video per supportarmi iscriviti al canale io ti aspetto alla prossima parte del continuo di questa serie di questa serie di questa serie